Saranno assegnati 50 militari alla provincia di Bari, quindi la richiesta che è venuta da molte forze politiche baresi e dal sindaco di Bari con cui avevo avuto sull'argomento un intenso scambio di opinione è stata soddisfatta. 50 militari in più arriveranno a Bari domani mattina, cioè domani martedì arriveranno a Bari 50 militari. Altri 50 militari sono stati destinati a Taranto e sono lì già da oggi, quindi da oggi a Taranto ci sono 50 militari e da domani a Bari 50 militari.